Tutto quello che accadde purtroppo assomiglia molto a quello che accade oggi in Ucraina e rende molto attuale il messaggio di pace ma il messaggio anche di sapere da che parte stare, dalla parte di chi lotta per la libertà, la democrazia, l'autodeterminazione, come in questo momento facendo il popolo ucraino, in una vicenda che coinvolge il cuore dell'Europa. Perché quando si parla di aggressione russa all'Ucraina si parla di un paese europeo che viene in questo momento falcidiato da bombardamenti, con la bigliaccheria di colpire con la morte da lontano senza rendersi conto che come accade ieri a Odessa o in tante altre località dell'Ucraina i primi a pagare questo prezzo sono i civili. Io ritengo che il messaggio che viene qua da Sant'Anna è quello ancora di quell'Ode che è uno dei grandi toscani che scrissero la Costituzione. Piero Calamandrei riuscì a interpretare con le parole. Io ricordo come ora e sempre resistenza è proprio una delle frasi di quell'Ode e oggi noi quando siamo vicini al popolo ucraino ci rendiamo conto quanto sia vera e attuale quella percezione che allora si aveva che con Sant'Anna di Stazema, con la resistenza in Toscana si opera qualcosa che poi porterà alla Costituzione della Repubblica dove dal primo gennaio del 1948 nei 12 articoli fondamentali la Repubblica ripudia la guerra come regolazione delle controversie internazionali ovvero una pace che è l'afflato a cui tutti noi tendiamo che deve però mai essere equidistante ma saper capire dove sono le regioni che hanno portato alla guerra perché è solo con queste ragioni che si può intervenire per riportare alla pace quello che vuole essere il destino e la speranza dell'umanità.